Per il terzo anno consecutivo Castellabate è pronta ad animare le sue domeniche di maggio con l'ormai consolidata manifestazione Lungo Mare Vivo. Anche quest'anno la passeggiata di Punta dell'Inferno si animerà con una serie di eventi rivolti a tutte le fasce d'età dai più piccoli ai più grandi. Tre gli appuntamenti 12, 19 e 26 maggio, domeniche che saranno caratterizzate dalla presenza di intrattenimenti musicali, spettacoli e animazioni per i bambini, mercatini dell'artigianato ma anche esposizioni d'arte e prelibatezze culinarie del territorio. La giornata conclusiva, quella del 26, vedrà protagonista l'attore e cabarettista napoletano Ciro Giustiniani. Per l'occasione l'intero Lungo Mare sarà completamente pedonale. Lungo Mare Vivo, spiega l'assessore al commercio Clemente Migliorino, rappresenta ormai un appuntamento fisso con le sue domeniche di maggio. Già dalle precedenti edizioni abbiamo avuto un riscontro molto positivo sia in termini di affluenza turistica, sia riguardo i benefici apportati all'economia di tutte le attività ricettive commerciali di Castellabate.